Inaugurato il nuovo fontanello di distribuzione di acqua pubblica a Malva, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di dotare altre frazioni di terra nuova dei distributori di acqua pubblica. Il fontanello inaugurato oggi lungo la strada provinciale Sette Ponti risponde ad un sentito bisogno sia della frazione stessa che delle vicine Persignano e Piantravigne. Da questo investimento si ricaveranno notevoli benefici ambientali, stando alle stime di Arpat, l'intervento porterà ad una riduzione dei rifiuti pari a 1818 chili all'anno. Questo è un importante investimento che va diciamo nel incontro a due duplici esigenze, una è quella ovviamente del risparmio economico per le famiglie che possono soffrire di questo di questo servizio e l'altro è appunto un discorso di riduzione in termini di impatto ambientale per quanto riguarda lo smaltimento e la produzione dei rifiuti. Ovviamente abbiamo ancora l'intenzione di servire altri territori, diciamo quelli che guardano la parte di Campo Gialli, Traiana, Cicogna, piuttosto la parte che riguarda le ville, ecco quindi in futuro sicuramente andremo a collocarne altri, ovviamente compatibilmente con le spese di bilancio, con le difficoltà che in questi giorni stanno rendendo sempre più difficile andare ad attuare il nostro programma anche dei lavori pubblici, però insomma ecco l'impegno dell'amministrazione, di tutta l'amministrazione è forte e continueremo in questo senso. Oltre all'installazione del fontanello abbiamo riqualificato quest'area verde con l'inserimento di nuovi giochi, la potatura delle piante e poi sono stati eseguiti altri lavori sempre sulla sulla parte dell'ottizio.